La prefabbricazione rappresenta una soluzione chiave per vincere le sfide attuali del mondo dell'edilizia. La necessità di processi costruttivi sempre più rapidi cresce di giorno in giorno, e allo stesso tempo, ci troviamo ad affrontare un mercato del lavoro caratterizzato dalla carenza di manodopera, sia per la fase progettuale che per la fase realizzativa. I flussi di lavoro per la prefabbricazione altamente automatizzati consentono di ridurre i tempi di consegna e gli errori umani, e permettono di generare dati affidabili necessari per la produzione. Prendiamo come esempio di automazione la produzione di una parete prefabbricata. Il progettista, inizialmente, non conosce tutte le possibilità tecnologiche del costruttore, e questo complica un processo già di per sé sofisticato a causa dei numerosi fattori da cui dipende. Alplan ti aiuta a superare questi problemi, ed è per questo la soluzione ideale per i produttori e i progettisti di prefabbricati. In base al posizionamento della gru, ai pianali e ai vincoli di trasporto, il software può effettuare la scomposizione delle pareti, può posizionare i ganci di sollevamento e generare automaticamente l'armatura in modo semplice e intuitivo. Le pareti prefabbricate possono essere sezionate in base a numerosi fattori, come la posizione della gru, il peso e la lunghezza massima e minima consentita. L'utente può anche scegliere specifici giunti, decidere se creare delle aperture, e se utilizzare automaticamente valori geometrici arrotondati. Il processo è altamente personalizzabile, ed è possibile aggiornare le impostazioni della produzione in qualsiasi momento. La progettazione dell'armatura delle pareti può essere effettuata automaticamente in base all'area calcolata tramite l'analisi FEM di Alplan. La posizione dei bulloni di sollevamento viene calcolata automaticamente dal software, in base alla posizione dell'asse baricentrico e al metodo selezionato, dando anche la possibilità di scegliere tra uno o quattro bulloni. Gli elementi possono essere creati come inserti o come armatura, e il sistema provvede alla convalida dei dati inseriti. Infine, con un semplice click e la selezione dei template appropriati, è possibile produrre automaticamente le schede di produzione dei componenti della parete. Grazie all'esclusiva tecnologia Element Plan di Alplan, i modelli delle schede di produzione sono altamente personalizzabili. Nel nostro esempio lavoriamo con tre fogli. Il primo foglio contiene la geometria delle casseforme e il posizionamento degli inserti. Il secondo foglio contiene i dettagli dell'armatura automatica. Il terzo foglio contiene lo schema della posa dei ferri e altri report. Alplan Precast Walls consente di esportare i dati nei sistemi messe nelle macchine di produzione, convalidandoli al momento dell'esportazione. In questo modo il progettista ha la certezza di consegnare i dati alla fabbrica rispettando i requisiti richiesti. In poche parole, Alplan Precast Walls aumenta la produttività nella progettazione di pareti prefabbricate con qualsiasi geometria complessa, è garanzia di qualità, e permette di implementare facilmente le modifiche nel processo. Guarda gli altri video e scopri come automatizzare la progettazione di Soleil, come aumentare la tua produttività, e come sfruttare i workflow dedicati ai prefabbricati offerti da Alplan EIC. Grazie a tutti.